Ecco qui, bene, ora ci ascoltiamo, che culo E il cibo? Anche il cibo, Manny so che la situazione è peggio di quel che dicono i notiziari Ortega, forza, ci muoviamo Cavolo, devo andare mamma, ti richiamo quando arrivo, ok? Abbi cura di te Lo farò, fa attenzione Manny, Bezos Bezos, Manny Minchia, spegnolo, una generazione del GTF è spegnolo, base Passo e chiudo